Sono l'ingegnere Enrico Artioli, insegnante all'Istituto Tecnico Corni di Modena e sono il coordinatore del Dipartimento di Elettronica e Elettrotecnica, nell'ambito del quale si studiano anche gli impianti civili, fra cui ad esempio la Building Automation e la Domotica. La storia di questo laboratorio nel quale ci troviamo è abbastanza particolare, nel senso che deriva da un'iniziativa lungimirante che elebbero la Camera di Commercio e gli enti locali, il comune e la provincia nel fondare una società che si occupava proprio della promozione del territorio, che si chiamava Promo, territorio modenese, nell'ambito del quale ci fu l'idea appunto di provare a proporre alle aziende e far conoscere sempre di più i dispositivi domotici. Questo laboratorio di domotica, che adesso è stato dato in gestione all'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, rischiava di essere smantellato in quanto erano venuti meno gli interessi da parte dei proprietari della società e quindi rischiava di andare disperso. E quindi c'è stata l'idea di portarlo dentro a una scuola con tutta una serie di valori aggiunti che sono stati, oltre a continuare la sua azione divulgativa del far conoscere le imprese, gli installatori, i professionisti e i tecnici di dispositivi di domotica di Building Automation che consentono di ottenere risparmi energetici nella gestione degli edifici, c'è stata anche la possibilità innovativa di insegnare agli studenti queste tecniche in modo tale che già nel loro curriculum venissero affrontati questi argomenti. E in più non solo gli studenti ma anche gli stessi tecnici, gli stessi architetti, ingegneri che volevano imparare non solo a conoscere ma anche a usare, a programmare dispositivi domotici hanno avuto questa possibilità perché nel frattempo i laboratori si è arricchito di tutta una serie di attrezzature didattiche che consentono proprio non solo di conoscere l'esistente, lo stato dell'art ma anche di imparare ad usarlo, che è il problema forse maggiore che oggi questo settore presenta, cioè la disponibilità di tecnici competenti nell'installare e nel programmare i dispositivi di tipo innovativo come quelli domotici o di Building Automation. È tutto basato su architettura Connect e poi c'è tutta una serie di dispositivi di postazioni didattiche che di fatto poi consentono di programmare dispositivi sempre in ambito Connect che possono poi anche essere collegate su una dorsale al laboratorio stesso. Quindi i ragazzi imparano, diciamo così, in prima battuta a gestire l'ambito locale, la loro postazione accendendo di merando luci, gestendo un room controller per la temperatura, gestendo attuatori e ragnetti, insomma interfacce pulsanti e così via. Dopodiché quando hanno aggiunto un po' di competenza, sempre stando nella loro postazione, possono accedere alla dorsale attraverso l'interfaccia di rete e controllare il laboratorio stesso. Quindi diventa un impianto tipicamente domotico che consente di integrare diversi dispositivi in maniera uniforme e poterli gestire da un'unica postazione senza doversi spostare o accedere ai singoli dispositivi.